I am Eric Pazzo, sono Eric Pazzo, adesso avete i sottotitoli qua sotto in varie lingue vi ricordo che il 18 giugno ci sono i tre anni del diavolica a Zurigo, all'Omsta li festeggiamo e all'Omsta ci saranno tutte quante loro applausi ragazzi, ragazzi Grazie 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 Applauso della Madonna Ciccone per il grande Paolo Buongiorno 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.